Presentazione al Parco Telle Cappuccini della festa del Cross a Gubbio 2016 che si terrà appunto nel territorio egubino il 20 e 21 febbraio 2016. Sono i campionati italiani, individuali e di società del Cross e di fatto la manifestazione più importante della vecchia Corsa Campreste, oggi denominata Cross, e si terrà proprio a Gubbio. Grandi relatori d'eccezione, il presidente nazionale Fidal Alfio Giomi, il campione olimpico ed oggi direttore tecnico del settore giovanile Fidal Stefano Baldini, oltre al presidente della Gubbio Runners Marco Busto che assieme al Comune organizza l'evento. Per vedere anche un grande spettacolo c'è gente che corre forte su un percorso che ho avuto la possibilità di visionare questa mattina che mi sembra adeguato, molto adeguato, ci sono ampi spazi per tutti i tipi di logistica, tanta gente gareggerà quel giorno e quindi c'è bisogno di spazi e organizzazione, ma c'è un bel gruppo di giovani che sta lavorando all'organizzazione di questo evento che sarà sicuramente un successo, oltre che una bella pubblicità per l'Atletica per il Cross, visto che si svolge anche in un ambiente molto affascinante. Mentre ispezionavo il percorso, ero insieme con gli organizzatori, dicevo che si respira passione e competenza. Lo spettacolo di Gubbio è sotto gli occhi di tutti, in più appunto preso atto che la logistica anche per quanto riguarda non solo le strutture, ma anche gli alberghi è la più alta possibile, proprio perché essendo probabilmente fuori stagione c'è la possibilità veramente di utilizzare al meglio tutte le strutture alberghiere locali, per cui io credo che sarà un'altra edizione memorabile.